ciao amici e amiche shadow warrior 3 this game supporta setting quindi non ten o english o english setting bello di tutto allora tradizione cinese semplificato giapponese coreano inglese francese tedesco spagnolo polacco russo brasiliano portoghese sottotitoli yes neanche ha proprio tutto giapponese no allora ragazzo vabbè tanto lo stiamo solo provando vai ps4 decombination r2 r1 ok r2 r1 perfetto insieme usa la combinazione dice r2 r1 cava cava Quanti cosini che si è fatti? Tipo un po' strano, eh? Avevo fatto gli altri, sinceramente. Tante ne fanno e non mi ricordo nulla. E chi lo batte, il drago? No, era un robottino. Non to that armless oversight, Gekko! Tanto che c'ha il zampetto dietro. Il bello è che questi personaggi chissà che cosa mangiano, non c'è nulla, tutto distrutto, cose strane, eh raga? E' un'altra persona che ha fatto il vecchio di Dio di Mischief. E' un'altra persona che ha fatto il apocalipsis. Oh, hoji. Mi piace che sto dicendo questo, ma sono felice che sei morto. Sono felice che non viste. Due mesi prima... Wow! Cioè, era questo lui? Cioè, è un po' decaduto, eh? E' un po' decaduto, eh? Un po' decaduto, eh? Un po' decaduto. Un po' decaduto è un po' decaduto di Dio di Mischief. Oh, bella! Buongiorno a prendere l'ammo guarda per queste grazie. Oh, è un fiorell'osso. Love armor. Qui bisogna anche... Oh, è un fiorell'osso. Oh... 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 Wow... Un pozzo... Un pozzo... Un pozzo... Oh... 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 Ok... Si può... Andare... Di traverso... 요... ... Ope... Di Traverso... ... Once... Os... My thoughts are on you... Nah... ... Wow, che buone Leo Sì, è vero, il Wang è tornato meglio di più di sempre, si trattate con lui! Forte questo Forte 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 Forte